L'idea era nata in occasione della partita valida per la National League tra Italia e Israele. Quest'oggi si è concretizzato il progetto per portare il metodo rondine nel processo di riaffermazione dei valori dello sport. Un incontro che si è svolto proprio alla Cittadella della Pace, alla presenza di numerosi rappresentanti di tante realtà che hanno deciso di aderire. Sport for Peace, avversari sì, nemici mai, è l'appello di rondine che ha portato oltre 60 persone a riunirsi intorno ad un tavolo scegliendo di andare verso la firma di un documento di intenti per progettare azioni concrete per la pace tramite lo sport. C'è bisogno di una cultura della pace, è solo un'alleanza tra i giovani coraggiosi di rondine, hanno ascoltato gli israeliani e i palestinesi, i russi e gli ucraini e tutti gli altri conflitti armati che dicono noi qui abbiamo il coraggio di essere amici, di tenere le relazioni. Chiediamo a tutti di fare la vostra parte e lo sport ha risposto sì, facciamo la nostra parte. Presenti esponenti della Federcalcio e della regione Friuli Venezia Giulia, l'arcivescovo di Udine Riccardo Lamba, rappresentanti del mondo del lavoro, dell'associazionismo e dell'unione delle comunità ebraiche e di quelle islamiche in Italia. Al tavolo anche il sindaco di Udine Alberto Felice Detoni. Siamo riusciti appunto ad associare sport e pace, purtroppo il conflitto è ancora aperto e immaginiamo che possa essere un percorso e un esempio per tutte le istituzioni. Oggi eravamo qua in tanti e adesso cercheremo a Udine di costruire ancora dei percorsi che mettono insieme la partecipazione, l'amore e lo sport.